Nell'anno del bicentenario della nascita di Don Bosco, oltre 60 consigli comunali dei ragazzi si sono dati appuntamento sabato 30 maggio a Castelnuovo Don Bosco, Asti, per il secondo raduno regionale sul tema Astaga Nutri la Mente, per capire come utilizzare i nuovi media. Da questa giornata è nato un video, realizzato dall'ufficio stampa del consiglio regionale, visibile su CRP TV, la social tv dell'assemblea, che contiene le immagini e le interviste ai protagonisti del raduno.